ehi la ciurma io sono mazzatess e ben ritrovati qui su expeditions viking allora nulla siamo finiti in questa imboscata dobbiamo cercare di barcaminarci metterei davanti i tizi che possono stare davanti tipo nefia ne asleifr e di qua metterei gunnar che non si sa mai e voi due state qua un po' nelle retrovie ah scendono da qua c'è anche un cane ma cos'è un puma un leone sono in otto tra l'altro loro da due lati non mi pare un'ottima situazione assolutamente no allora tu riesci per caso a no però gunnar forse ci arriva allora scusami ma io non voglio l'arco scusi che ho l'arco perché ho l'arco questa è una bella idea ma no non ho abilità con l'arco mi muovi in qua nei fianchi quello anche se venisse a chiuderci di qua più che altro era l'arco quel tizio là è una brutta fregatura aspetta guarda questo ha un 86% allora potrei fare una roba interessante allora io ho ancora l'inspire abbiamo un inspire a gunnar che è l'unico che è là davanti per cui potrei fare un shield hook così gli piazziamo una bella frecciumba in faccia che dite 86% se vengo qua probabilmente è molto meglio infatti ok e roscavavini qua in qualche modo nasconditi tra la folla non c'è una delle pietruzze così tanto per visto che tanto non ha lo scudo in faccia e poi non demoralize magari visto che non si può fare nulla cioè potrei mettere la fionda e fare altre roba ma no dai è un cane perché l'ho cura? non è niente ah gli ha tolto il demoralize ma sei scemo ahia ok mi è mancato buono un altro lucere gli tizioni nude questo è uno che fa demoralize con la mani nude e si muove un po' e poi dovremmo essere ok tocca a noi allora non vorrei spostare troppo le fie ma è una buona cosa quello di tirare gli vulcani e di avere un flank su questo tizio per cui farei così di tirare un sasso in faccia che facciamo lì del down? è molto tosto questo porca miseria facessimo un uh che slasher cosa succede? ma devo vedere se riesco a tirarlo giù con Ketil vai con una doppia magari però c'è il pigliato tutto e giusto lo scudo ok no ottimo anzi possiamo andare su quello è troppo difficile però questo c'è lo scudo è il fatti allora andiamo in un altro sasso così tanto per è un Reckless quanto gli fa? boh diamo assorbiti tutto avremo bisogno di gunnarla se no andiamo in un Demoralize dai mettiti qua Rosqua che non mi fido tanto di dove sta lei anche se ha curato il Demoralize ottimo così perdo un tempo meglio per me ahia Blancata e Stunnata questa è una pessima posizione adesso va su Nefia allora lui non ci arriva là perché forse perché c'ha allora però se lo Stunn non dovrei poter usare lo scudo ok e in più Rosqua dovrei poter usare il Death Blow yes grande fai di un charge su questo o c'è altro vedete sono l'am ah rompe solo le scatole grande Rosqua comunque poi visibilità 54% solo se vado là ho paura di pigliarmi la roccia in faccia 66 42 perché c'ho il Demoralize in faccia l'avrei scommesso lanciamo una roccia così tanto per lanciamo una roccia tanto per nefia è messa male mi sono dimenticato di curarla ma c'era il tizio là che era un po' prioritario però rischiamo di perderla su turno eh infatti è andata però sono rimesso in 5 noi siamo in 4 di cui uno è sepolto praticamente col tizio là qui sono andati giù quelli con gli scudi per cui allora farei così vedete quanto hai per lo potresti tirare giù probabilmente con il Fire Arrow ok niente è esploso comunque così che Gunner si occupa di questo senza più problemi là sono rimasti due tipelli ma vorrei occuparmi prima di tutto di questo e lei non ha il revive solo curare ma qua non c'è nessuno di noi che ha bisogno di cure per cui facciamo di nuovo un demoralize spostiamola qua e spostiamo anche Ketil qua anche lui demoralizza ma non è troppo un problema perché noi abbiamo solo un arciere mentre loro sono rimasti solo arcieri ok no cavolo c'è lo scudo fortissimo e l'altro è andato in Interrupt ok ecco ah no non volevo Rosk va aaaah pigliare lo scudo mi fissa eh infatti ha assorbito tutto questo schifoso non c'è se abbiamo giocato così bene proprio no mettiti qua Gunnar quello è andato in Interrupt eeeh non lo seccherò mai invece forse si ok dov'è l'altro non riusciamo mai ad averci visibilità sull'altro no infatti in cover completa aiaaaah E Roscva ce l'ho da parte del mondo, qua. Corri, Roscva, valla giù, paparani! Adesso prendo su quei pad, questo è qua a registrare. Vi faccio un charge e va giù? No, però... E' un buon punto di partenza, tu statene via. Per quanto possibile. In tutto questo ci demoralizzi? All'altro cerca di tirare... Ah no, ma è stato un interrupt. Dovrei mandare avanti, tizio, con lo scudo. Per bruciargli l'interrupt. Dov'è che è? No, l'ha preso! Non ho stato lo scudo, porca miseria! Nulla. Ho fatto il possibile, cosa posso dire? No, Roscva, fai un curino su Ketil. Let me take a look! E poi Ketil, vai di qua. Che male non fa? Intanto per il suo giro è andato, però... Ma basta! Vai Ketil! Grande! Speriamo che Nappy non sia messa troppo male. Allora, qua dovremmo passare la vita a curarla e le infinite medicine. Cavolo, severa! L'accelerazione severa. Si può esplorare qua? Raccogliamo la roba, allora. Ci sono dei kern, per caso, in giro. Anche i tizi possiamo saccheggiare. C'era buono! St'aguato qua non c'era mai capitato, eh? Ah, niente. È qualcuno che c'era mandati contro tipo il re, magari? Sì. È un kern nascosto, no? Ma non sembra. No. Vabbè. Vediamo che ci sia qualcosa di qua su. No. È tutto qui. Vabbè. Strano. Detto questo, nulla. Io concluderei con la registrazione. Vado a liberare l'accampamento che è sotto. Ah, no. In realtà... Dovevamo accamparci per riposarci. Ma poi ci hanno menato nefia. Eh... Andrò senza nefia. Andrò senza nefia. Detto questo, io vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi per caso non l'este già fatto e lasciare un commento qua sotto. Ciao. E buone giornate. Ho, vai, va. Ciao. 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 Grazie a tutti.